Sarà attivo anche al Comune di Gela il baratto amministrativo, lo ha annunciato l'assessore al bilancio Fabrizio Morello. Si tratta di uno strumento introdotto dal decreto Sblocca Italia che consente ai cittadini in difficoltà economica di poter saldare i propri debiti con il fisco mettendosi a disposizione del Comune per eseguire lavori socialmente utili. Sono diversi i Comuni in Italia che stanno attivando le procedure per l'avvio del baratto amministrativo e tra questi anche il Comune di Gela. Gli interventi e quali cittadini che dimostreranno di avere requisiti potranno prestare la loro opera possono riguardare la manutenzione, la pulizia, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade o comunque interventi di decoro urbano con finalità di interesse generale e la valorizzazione di limitate zone del territorio. Ne abbiamo parlato con l'assessore a ramo Fabrizio Morello. Si tratta praticamente di una possibilità che daremo a tutti i cittadini ingelesi di poter far fronte laddove ci sono situazioni oggettive di difficoltà economiche e laddove concretamente si dimostri di essere nelle condizioni di poter pagare un tributo dovuto a questo ente comunale, quindi la possibilità in cambio di un servizio che questi stessi renderanno alla collettività che può essere dalla piccola manutenzione alla pulizia di spazi e verdi pubblici, la possibilità di, perdonatemi il termine, barattare ma così la chiama la legge, questa disponibilità con il non pagare il tributo stesso. Da quando potrebbe essere attivo questo servizio, questa nuova opportunità per i meno abbienti? Dal 2016. Come vi organizzerete in tal senso? Saranno individuati intanto i servizi e poi i soggetti che potranno soffruire di questa facilitazione? Individeremo sia i singoli progetti di riqualificazione di aree di verde pubblico e poi contestualmente verificheremo di fare degli appositi elenchi a cui si parteciperà con una domanda e da lì iniziare praticamente a mettere assieme progetti e disponibilità da parte di quanti vogliono partecipare. Assessore, che tipo di inquadramento sarà? Saranno dei lavoratori, dei volontari? Come saranno collocati questi soggetti? Assolutamente non c'è alcun rapporto di lavoro in questo senso. La norma è precisa e chiara. Si tratta di una mera disponibilità a dare dei servizi e quindi un contributo alla propria collettività. In cambio di questa disponibilità e di questo contributo libero e volontario si ottengono quelli che sono i cosiddetti sgravi tributari. 30 studenti provenienti da ogni parte del mondo coinvolti nel workshop internazionale sullo sviluppo smart di Gela. Il progetto aveva uno scopo ben definito, sviluppare nuove idee entrando in contatto con le reali necessità della città giudese e associarvi nuove idee interagendo con i cittadini nell'elaborazione delle singole ricerche. Nei locali della ricerca scientifico Elio Vittorini, chiusura dell'iniziativa. Questo è il punto di partenza. L'amministrazione ha deciso di infondere in città un aumento del livello culturale e scientifico attraverso la partnership con l'Università Tecnica di Berlino, attraverso la richiesta al mondo Ene di istituire a Gela la fondazione Enrico Mattei, che è riconosciuta a livello internazionale come un centro di ricerca avanzato. Ecco, c'è necessità di portare a Gela, se non l'università, perché sappiamo che ci sono delle difficoltà insuperabili, ma sicuramente dei centri di eccellenza che possono permettere al mondo scolastico, ai ragazzi che escono fuori dalle scuole superiore, di potersi qualificare senza necessariamente seguire il percorso universitario. Il rapporto vero è tra la scienza, tra l'approccio scientifico e la città. In questo caso è l'università tedesca che però ha al suo interno ragazzi di diversa nazionalità e questo rende ancora più ricco il rapporto. La Valenza è soprattutto internazionale perché finalmente Gela viene inquadrata da un punto di vista razionale, sotto diversi aspetti. Noi abbiamo qui avuto gli architetti della Berlino Core perché hanno visto, forse prima di noi, quali sono le esigenze, perché spesso noi gelesi, noi che viviamo in questo contesto, non ci rendiamo conto che potrebbero esserci delle soluzioni. I tedeschi, i tedeschi, i francesi, i inglesi, perché in realtà il gruppo di lavoro è formato da ragazzi internazionali, provengono da ogni parte d'Europa, solo il professore è tedesco. Per cui hanno inquadrato Gela e sperano di dare delle soluzioni, ma hanno anche accolto dei suggerimenti. Sono stati interpellati e intervistati buona parte dei nostri alunni, i più grandi, quelli del triennio, cercando di capire dai ragazzi quali suggerimenti potessero emergere per la soluzione. Ai nostri microfoni il docente di pianificazione urbana sostenibile all'Università di Berlino. Cosa ricorderete di questa esperienza a Gela che se vogliamo è stata anche molto formativa? Ci ricorderemo che così tante persone hanno voglia di venire da noi e parlare con noi, che sono interessati a quello che stiamo facendo. Durante l'iniziativa di sabato scorso la Proloco di Gela ha consegnato ai presenti il DVD contenente il video di promozione turistica del territorio presentato ad Expo presso il cluster bio mediterraneo e al padiglione siciliano. La casa è un diritto, è la scritta che campeggia su uno striscione esposto questa mattina a Gela, cronaca di una giornata di ordinaria protesta dinanzi a Palazzo di Città. Non vogliono lasciare le case popolari in cui vivono da anni, chiedono di restare, monta la protesta. Sono i cittadini che fanno sentire a gran voce le loro richieste, invocano l'intervento del presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta. Oggi per l'ennesima volta siamo qua davanti al comune di Gela per il fatto degli alloggi popolari. Noi vogliamo la regolizzazione subito, immediata, perché da 12 anni, 13 anni che abitiamo in queste case, non ci potete buttare fuori. Noi siamo stanchi, lancio un appello a Crocetta che intervenga immediatamente. Siamo disagiati, siamo in mezzo a una strada, siamo anche senza lavoro. Signor Crocetta si muove, che noi siamo stanchi. Noi vogliamo essere regolate nella granatoria, per la casa, abbiamo tutti i diritti. Noi vogliamo a Crocetta, Crocetta deve venire qua subito, immediatamente, Crocetta. Abbiamo chiesto aiuto per un lavoro e si fanno sordi. Abbiamo chiesto di farci mettere in regola per le case e non ci interessa niente. Ci sono persone che veramente abbiamo bisogno, siamo persone che abbiamo bisogno di un lavoro e di un tetto. Al limite ci trovano un'alternativa. Prendono una casa, la casa sostitutiva, e ci mettono in un'altra casa sostitutiva. Queste sono case popolari, persone che non ci abitano da 30 anni, case vuote, persone che la usano soltanto come casa a vacanza. Cioè ci sono persone che si fanno segnare la casa e poi se ne vanno. Un messaggio sociale incisivo, quello concepito dall'Associazione di Promozione Turistica Proloco di Gela, che ieri ha organizzato un evento all'interno della casa circondariale di Contrada Balate di Gela, di concerto con la direzione dell'importante struttura locale. Ai detenuti è stata offerta la possibilità di vedere e apprezzare il video di promozione del territorio locale, prodotto dalla Proloco di Gela, e di sorridere e trascorrere del tempo in allegria con lo spettacolo di intrattenimento con Salvo La Rosa e l'attore Enrico Guarneri in arte Litterio. Possiamo definirla un'iniziativa perfettamente riuscita e possiamo dire che c'è stato un attimo di condivisione fra i detenuti e tutti noi. Salvo La Rosa e Litterio in fondo ripentono un po' quella che è la vita quotidiana della Sicilia, del popolo siciliano, ed è stato un motivo di creazione di una sintonia, di una speciale sintonia, di una condivisione, e anche in termini non tanto così teatrali, proprio in termini di fattività, di un'ipotesi progettuale che va al di là solamente delle idee e dei pensieri. Altrimenti che, che valenza dà la Proloco all'iniziativa che si svolge all'interno della casa circondariale? Grandissimo valore, educativo per quanto riguarda la casa circondariale, ma anche e soprattutto probabilmente divulgativo, perché l'obiettivo è quello di dare sempre la speranza di una vita migliore e soprattutto far capire che Gela, la nostra città, ha delle grandissime qualità, delle grandissime occasioni che bisogna sfruttare. Ecco perché la Proloco è presente, facendo capire attraverso il video che chiaramente pubblicizza la nostra città e facendo notare tutte le bellezze particolari del nostro paese. Quanto è stata importante l'iniziativa che si è sviluppata all'interno delle mura dell'istituto penitenziario? L'importanza è notevole, è notevole perché oggi, grazie alla Proloco e grazie all'associazione che hanno lavorato, è stato possibile portare all'interno di queste mura un genno di speranza, è stato possibile portare quello che la gente da qua dentro non vede da diverso tempo, cioè il tramonto di Gela, grazie al video della Proloco, ma soprattutto strappare un sorriso grazie agli attori che hanno recitato sul palco e credo che questa gente ne abbia bisogno per recuperare fiducia nella città e soprattutto per recuperare fiducia in se stessi. Enrico, è stata, se vogliamo, un'esperienza, sottolineiamo anche formativa? Ma sicuramente, sicuramente, anche se per noi che abbiamo i capelli bianchi, certe cose non è che ci sciocchino più di tanto ormai, però poi toccare con mano, entrare dentro una casa di detenzione è sempre un certo effetto. E qual è il messaggio che parte da Enrico Guarneri? Rivolto ai detenuti. Rivolto ai detenuti? Beh, insomma, io, che quando diventano ex detenuti rimangano tali, quindi comportarsi secondo quelle che sono le leggi con molta pazienza, per chi lo capisce, non è facile, avvolta la disoccupazione, la mancanza di lavoro, ci vuole molta pazienza, se si è ex detenuti, rimaniamo ex detenuti, fate in modo di non tornare più. Salvo, è stata un'esperienza bella, formativa, affascinante, se vogliamo, che voi avete assecondato subito grazie all'iniziativa promossa dalla Proloco. Ma credo che noi che facciamo questo mestiere abbiamo il dovere di andare a portare un po' di gioia, di serenità, di divertimento nei luoghi di sofferenza. Noi andiamo negli ospedali, andiamo nelle case di cura, andiamo nelle menze sociali, andiamo a trovare i bambini, gli anziani e quando ci invitate, quando ci invitano, veniamo anche a fare spettacolo nelle carceri, che sono luoghi di sofferenza dove chi ha sbagliato paga la propria pena, ma dove anche chi ha sbagliato ha diritto a vivere in maniera dignitosa, quindi anche a vivere momenti come questi che noi abbiamo regalato a loro, cioè momenti di divertimento, di simpatia. Quello che noi sappiamo fare abbiamo fatto anche per i detenuti. Del resto Gesù nel giorno del giudizio ha detto ero carcerato e siete venuti a visitarmi, quindi è un'opera importante e io mi complimento con tutti coloro i quali lavorano nelle carceri per portare cultura, istruzione, divertimento, svago e lavoro anche a chi, lo ripeto, ha sbagliato e paga la propria pena. Quindi non è la prima volta e certamente non sarà neanche l'ultima, noi siamo sempre a disposizione, siamo anche personaggi amati e popolari e quindi con i nostri messaggi positivi arriviamo anche più facilmente al cuore della gente. È tornato all'antico splendore il preziosissimo reperto archeologico gelese Calipter Egemon grazie alla collaborazione del Kivanis Club di Gela che ha sostenuto l'operazione di restauro e al supporto del responsabile del laboratorio di restauro Riccardo Cassinera. Abbiamo restaurato un pezzo importante del nostro museo, si tratta di un'antifissa corgonica particolare perché noi abbiamo tante antifisse corgoniche all'interno del museo ma questa è un'antifissa corgonica, come dire, Egemon Egemon nel senso dire che è un egemone rispetto a tutte le altre antifisse perché proprio si trovava al colmo dell'edificio un edificio che doveva essere un edificio monumentale che era all'interno dell'acropole di Gela. Tanto è importante che il British Museum ci ha chiesto questo pezzo oltre alla testa del cavallo e l'arola, quella delle triade, delle divinità proprio per fare una mostra a Londra del periodo che va da aprile a maggio e proprio per la sua importanza e grazie proprio al contributo del Kivanis che con piccole somme, perché è importante il segno che si vuole dare proprio il senso civico che deve avere questi contributi per rendere fruibili questi pezzi all'interno del nostro museo. Si tratta di un pezzo che va dal VI al V secolo a.C. più di V che di VI a.C. Il presidente del Kivanis Club di Gela. Noi non trascuriamo mai le vene artistiche, quindi culturali che ci possono essere nel territorio e avendo avuto la richiesta da parte del direttore del museo, dottore Neoturco, che ringraziamo per averci coinvolti. Siamo stati ben lieti di partecipare al restauro di questo pezzo che come ha detto il direttore con un pezzo abbastanza importante e che è stato richiesto anche dal British Museum per la sua esposizione. E questo è importante secondo me che i club service collaborano con le strutture territoriali e soprattutto con le strutture archeologiche perché con la crisi dell'indotto, con la crisi dello stabilimento il futuro volano di conduzione dell'attività economica sociale, del territorio e sicuramente il turismo. In ola consigliare a Gela il clima non è affatto sereno, anzi si respira aria pesante. Le fibrillazioni sono all'ordine del giorno. C'è chi giustamente protesta perché c'è il rischio concreto di perdere il proprio posto di lavoro. Ci riferiamo agli operai dell'indotto, dello stabilimento Eni, ai lavoratori della Tecra. Protestano anche chi ha occupato per anni abusivamente gli alloggi dell'Istituto Autonomo Case Popolari, destinatari degli sfratti a seguito di una sentenza del Tribunale. E poi ci sono anche gli studenti e i docenti che dicono no alla riforma Renzi e le mamme degli alunni che dicono no al dimensionamento scolastico. E l'elenco continua con le lavoratrici della riflessione scolastica e con chi si occupa del trasporto dei disabili. Un vero e proprio calderone. Un giorno sì e l'altro pure c'è una protesta dinanzi al Comune che poi prosegue anche dentro l'aula dove si svolge il Consiglio Comunale. Ma non soltanto le proteste relaventele di chi dall'amministrazione vuole una mano d'aiuto concreta, immediata. Ci sono anche le bacchettate che giungono direttamente dagli scranni occupati da coloro i quali sono legati al Movimento 5 Stelle. Ci riferiamo al gruppo consigliare formato da Virginia Farruggia, Angelo Amato, Enzo Giudice, Simone Morgana e Sara Cavallo. Giorni e dietro Angelo Amato ha chiesto che la Giunta venga mandata a casa perché sta distruggendo il sogno del Movimento. Ed ieri sera la nota, redattata dal gruppo consigliare Grillino, che esprime, si legge, uno giudizio non positivo in ordine all'attuale attività amministrativa della Giunta messinese, ritenendo le attività troppo volte non coincidente con i principi programmatici del Movimento stesso. Volendo portare avanti quanto espresso nel programma elettorale 5 Stelle, che riteniamo essere la mappa per il cambiamento della città, sottolineano i firmatari, e ritenendo il lavoro della Giunta non coincidente con l'orientamento programmatico, il gruppo prende le distanze dall'azione finora svolta dalla Giunta e chiede al sindaco e agli assessori di assumere tempestivamente le opportune azioni volte a realizzare quanto manifestato nel programma elettorale Movimento 5 Stelle. Parabola significa che il matrimonio è quasi compromesso e sono passati solo cinque mesi. Nel linguaggio calcistico significa solo una cosa, alla prossima partita persa saltano allenatore e compagnia cantante ed anche in politica, se vogliamo, all'identico significato. Simone Morgana, ma esattamente cos'è che è contestata l'amministrazione comunale? Cos'è che non vi piace? Allora, due cose fondamentali. Il primo è il metodo, e questo significa generalizzare la cosa, perché per ogni attività che facciamo noi abbiamo un metodo che vogliamo seguire, che è quello della condivisione delle idee e dei progetti, e questo è mancato in maniera molto forte, tant'è che non l'abbiamo percepito solo noi come gruppo consigliare, ma l'ha percepito l'intera città dopo aver eseguito l'intera campagna elettorale, e nel programma questo discorso di trasparenza e condivisione era stato espresso in maniera molto chiara. Secondo, la mancanza di un metodo ha portato anche a delle scelte che poi non sono state condivise. E l'accordo di programma, secondo noi, è diventato una sorta di manifesto di questa cosa, dove andando a individuare una politica industriale che poi ricadeva ad ombrello sull'intera città, ha portato ad una precisa direzione della Giunta. Noi abbiamo contestato questa cosa, ma l'abbiamo contestata in maniera costruttiva. Noi abbiamo mandato un documento dove punto per punto andavamo a dire cosa invece coincideva sia con le linee programmatiche sia con quello che poteva essere la nostra idea di sviluppo. Credo che la risposta attuale dell'amministrazione sia di distacco rispetto a questa nostra proposta, perché anziché accogliere e modificare quello che doveva essere, è stato mandato alla stampa un po' dovunque fatto girare e si è detto che dovrebbe essere il Consiglio Comunale a decidere su questa cosa. È chiaro che a quel punto noi riteniamo che anche su questo piano politico ci sia un distacco. Sono passati soltanto cinque mesi dall'insedimento della giunta mensinese e il matrimonio sta per compromettersi. Ma diciamo che ad oggi parrebbe così, però noi siamo aperti a un cambiamento di rotta, nel senso che noi facciamo delle richieste ben precise al nostro sindaco e quindi se lui ci concedesse un confronto e comunque di ritornare a quelle che erano le linee programmatiche della campagna elettorale e quindi del programma Movendo 5 Stelle, noi ci siamo e ci saremo sempre. Voi riconoscete in domenico mensinese il vostro sindaco? Ma lui è il sindaco del Movendo 5 Stelle, lui è un eletto come lo siamo noi, sicuramente arroccarsi dietro le posizioni di assessori che non sono eletti ma sono nominati e che non sono espressioni del Movendo 5 Stelle ma è un dato di fatto, non è un'offesa, attenzione, ognuno ha le appartenenze che preferisce. Noi sì, riconosciamo in lui il sindaco del Movendo 5 Stelle, è chiaro. La proposta del passaggio al sistema pubblico di gestione del servizio idrico a Gela la cui delibera è stata approvata lo scorso 13 novembre dall'amministrazione comunale è stata assecondata ieri sera dalla Sise Civica. L'esperienza della privatizzazione dell'acqua, si legge nella delibera, ha dimostrato come solo la proprietà pubblica e il governo pubblico e partecipato dalle comunità locali garantiscano la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti e il rispetto degli equilibri maturati per le generazioni future. Il capogruppo del Partito Democratico, Enzo Cilignotta. La Giunta valuterà il percorso per uscire dal lato idrico e quindi per ritornare ad una gestione pubblica e diretta dell'acqua in forma singola oppure associata. Il Consiglio Comunale ha espresso una posizione forte, eravamo in 17 e ritengo che su questa vicenda non si può più tornare indietro e il percorso per passare alla gestione diretta e pubblica dell'acqua così come ci chiedono i nostri concittadini ormai è trecciato. E cosa vorrà dire? Che Caltaacqua non gestirà più il servizio idrico a Gela? Questa delibera era necessaria per avviare un percorso. È chiaro che si tratta di fare riferimento ad una legge che è stata impugnata dal Governo nazionale. Aspettiamo l'impugnativa del Governo nazionale dopodiché quando avremo il quadro legislativo più chiaro perché in questo momento è incerto e l'amministrazione comunale insieme al Consiglio Comunale valuterà il passaggio all'acqua pubblica. È chiaro che il percorso non è breve perché ci muoviamo in un quadro legislativo molto incerto però come dicevo prima la via, il percorso è irreversibile. Ma ci saranno anche delle penalità da pagare considerato che c'era un contratto con Caltaacqua? No, questa è una facoltà prevista dalla legge. Durante i lavori del Consiglio Comunale di Risera è stato approvato un atto di indirizzo che chiede alla Giunta di verificare se effettivamente esistono tutte le condizioni per la gestione pubblica del servizio idrico. Il Consiglio Comunale per rafforzare ancora di più la posizione del Lende Comune in merito alla gestione pubblica dell'acqua è quello di dare mandato all'amministrazione comunale di valutare e verificare se ci sono le condizioni per una risoluzione anticipata del contratto visti i numerosi disservizi che Caltaacqua ha fatto patire alla cittadinanza. acqua non potabile, acqua a singhiozzo e pagata a caro prezzo. Un dato politico importante, che è giusto che la cittadinanza lo sappia, è stata votata questa delibera da 17 consiglieri comunali e c'era l'assenza in aula sia di tre consiglieri comunali dei grillini sia di due consiglieri comunali vicinissimi all'avvocato greco di un'altra Gela, che ha fatto in questi anni tantissime battaglie per quanto riguarda la gestione dell'acqua pubblica. Questo è un dato importante. La delibera è passata grazie al voto importante e compatto del consigliere comunale del centro-sinistra. Il giudizio non è positivo in ordine all'attuale attività amministrativa della giunta messinese, ritenendo le attività troppe volte non coincidente con i principi programmatici del movimento stesso. E di due giorni fa la presa di posizione da parte del gruppo consigliare Grillino che in una nota sottolinea inoltre che volendo portare avanti quanto espresso nel programma elettorale 5 Stelle che riteniamo essere la mappa per il cambiamento della città e ritenendo il lavoro della giunta non coincidente con l'orientamento programmatico il gruppo prende le distanze dall'azione fino alla svolta della giunta e chiede al sindaco e agli assessori di assumere tempestivamente le opportune azioni volte a realizzare quanto espresso nel programma elettorale. Oggi il sindaco dice la sua. E' chiaro che noi siamo stati presi in questo periodo da tutta una serie di attività e giustamente sono state forse non comprese determinate azioni perché giustamente ci vogliono determinati tempi. Non c'è nulla quindi essendo che l'amministrazione operato per il bene della collettività sicuramente sarà un disguido che si potrà chiarire tranquillamente. Ma non si poteva chiarire anche prima questo disguido invece di ricorrere comunicati stampa? Ma questa è una scelta loro, ritorno a ripetere. Sono persone intelligenti e stanno come lavorare per il bene della città quindi quando l'obiettivo è comune sicuramente il problema non esistono. Ma c'è condivisione tra lei, la soggiunta e il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle? Ma noi abbiamo un programma che abbiamo sostenuto tutti quanti insieme che è quello che stiamo perseguendo. Naturalmente ritorno a ripetere che l'attività che sta facendo questa amministrazione è abbastanza intensa. Non ha i tempi di una normale amministrazione dove i formalismi, dove le sedute dove magari si discute parecchio ma magari si concretizza poco non fa parte del DNA di questo tipo di giunta e quindi magari questo tipo di comunicazione è mancata. Ma fra le altre cose, continuando che parliamo del Movimento 5 Stelle mi rendo conto che il dialogo non può avvenire anche in altri modi perché si può tranquillamente in chat o per altre vie che i mezzi moderni ci possono dare. Non c'è nemmeno questo. Quindi non ho ben capito per quale motivo tra l'altro che il problema è quello di interfacciarsi con il sindaco e vogliono che io vada a chiamarli per ogni volta ma questo qui ritorno a ripetere è un problema più loro che mio perché io non ho problemi di parlare con nessuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.